Floridia ha arrestato un curioso per evasione dagli arresti domiciliari. I carabinieri della tenenza di Floridia hanno arrestato per evasione un pregiudicato perché si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Il 32enne si è giustificato dicendo che ha notato in lontananza un gruppo di persone e incuriosito era uscito per accertarsi di cosa fosse accaduto. L'uomo è stato risottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria.